A Roma ha aperto il sinodo dedicato ai giovani e alla fede. Per la prima volta presenti anche due vescovi cinesi. Ignazio Ingrao. La commozione del Papa. Con la voce rotta dall'emozione, Francesco annuncia la presenza al sinodo di due vescovi cinesi. Diamo loro il nostro caro rosso benvenuto. Una pagina storica, frutto del recente accordo tra Santa Sede e Cina. In passato il governo di Pechino aveva sempre negato il visto ai vescovi per partecipare al sinodo. Giovani e fede. 267 vescovi e cardinali dai cinque continenti ne discuteranno fino al 28 ottobre. Tra loro anche 34 giovani che potranno intervenire liberamente. Francesco apre i lavori, chiede perdono per i mali della Chiesa, ma risponde anche agli attacchi. Una critica onesta e trasparente e costruttiva e aiuta, mentre non lo fanno le chiacchiere inutili, le vicerie, le illazioni oppure i pregiudizi. Invita vescovi e cardinali a parlare con libertà, ma anche a saper ascoltare. È un appello. Non lasciamoci soffocare dai profeti di calamità e di sventura. Grazie.